Alla Romeo Neri si affrontano le squadre che in due hanno perso tre partite finora, una la capolista Rimini, 35 punti, due l'Atletic Carpi, sesto quota 23, in serie utile da 11 gare e che nel turno infrasettimanale è stato protagonista di un pirotecnico 5-5 con il Ravenna. I Romagnoli invece mercoledì hanno visto rinviare il loro match in casa del Giviborgo per impraticabilità del campo. Il recupero si giocherà il 5 gennaio. È giornata biancorossa, non sono quindi validi gli abbonamenti. Mister Gaburro deve rinunciare ad Andrei se squalificato, a Carboni ancora in infermeria e a Loduca per un virus intestinale accusato dopo pranzo. Al suo posto gioca Berghi. In Curva Est è esposto uno striscione. Per sempre riecheggerà Gavino Capultrà, in ricordo del tifoso biancorosso Andrea Gavagna spentosi venerdì. Il capitano Tanasa depone un mazzo di fiori sotto la Curva Est. Al dodicesimo il Rimini passa. Spunto irresistibile di Piscitella sull'out di sinistra. Il numero 11, Maghe Verde, guadagna le linee di fondo e sfodere un assist d'oro per Mancagli, che si conferma bomber casalingo spedendo in fondo al sacco. Poi la corsa sotto la tribuna centrale. 1-0 e sesto centro in campionato per il numero 9 di Gaburro. La reazione del Carpi sta in una conclusione di muro dal limite dell'area. Dopo un buon lavoro a sinistra di Sivilla, al sedicesimo, Marietta blocca terra. Al ventesimo, Pannelli controlla in maniera approssimativa il cross di Lordi Chipanizze. Marietta anticipa Raffini, che con Cavalleria lo salta. Al trentaseiesimo, Sivilla calcia dal limite dell'area. Marietta è attento e respinge. Al trentottesimo, Tonelli prova a fotocopiare l'azione del gol dell'1-0. Questa volta però Ferretti ci arriva. Poi il tiro di Gabbianelli non porta effetti. Un minuto dopo, Tanasa avanza e una volta al limite dell'area spara. Ferretti devia in angolo. All'intervallo, il Rimini è avanti di un gol. Resta negli spogliatoi Raffini, sostituito da Walker, che al quinto va al tiro, pallone lontano dal bersaglio. Dall'altra parte del campo, nello stesso minuto, Piscitella finisce a terra in area. Poi il tiro di Tonelli ribattuto. Per l'arbitro si può proseguire. Al nono cross di Montebugnoli, Walker tocca, Panelli appoggia l'indietro, Marietta blocca. Al decimo, ripartenza degli Emiliani, dopo un pallone perso nell'area avversaria da Gabbianelli. Sivilla avanza in contrastato. Poi calcia dal limite dell'area. Marietta respinge di piede, Walker, quando riceve palla, è in fuorigioco. Al quarto d'ora, Piscitella prova a risolvere un'azione insistita del Rimini. Ferretti si supera e respinge la sua volée. Al diciassettesimo, i padroni di casa raddoppiano, con un'azione d'altra categoria. Piscitella controlla ritroso, poi si libera della palla con un tocco delizioso per Tanasa, che tocca a sua volta per Tonelli. Gabbianelli ne mette in mezzo per la corrente Greselin, che batte Ferretti, 2-0. Al diciottesimo, Walker calcia sul primo palo, Marietta rispinge in angolo. Al ventesimo, il Rimini cala il Tris, con un'altra azione da Cineteca. Dribbling di Piscitella a sinistra, velo di Mencagli, Gabbianelli appoggia per Greselin, che trova il secondo gol personale in tre minuti, 3-0 e gara agli archivi. Al trentacinquesimo, l'Atletic batte tre corner di fila. Sull'ultimo, Serrotti va la battuta, nessun problema per l'estremo di casa. Al quarantanovesimo arriva anche il Poker, azione insistita a sinistra di Pari, sul cui traversone si avventa Tomassini di testa. Anche il numero 21 partecipa alla festa del gol. Finisce 4-0 per il Rimini, che sa la quota 38 in classifica, e stoppa 11, la striscia positiva del Carpi. Finisce 4-0 per il Rimini, che sa la quota 38 in classifica,